Grande serata per il pubblico di Piazza Duomo che ha accolto l'impeto di tutte le emozioni arrivate dalle esibizioni degli ospiti giunti a Trani per il Galà del Giullare. Show che ha chiuso il ricco mese di eventi della sedicesima edizione del Festival Il Giullare. Kermes culturale che porta a Trani le storie più importanti di rinascita contro ogni barriera della disabilità. È un'emozione indescrivibile, in realtà ogni volta che danzo è come se fosse la prima volta e poiché io prima la ballavo in piedi, adesso ballare in sedia a rotelle mi dà comunque la stessa serenità di come ballavo prima. Un bilancio più che positivo per questa sedicesima edizione del Festival per il coordinatore della manifestazione Marco Pentassuglia. Oggi concludiamo questo festival lungo quasi 20 appuntamenti con circa 200 ospiti provenuti da tutta Italia, un festival che sta diventando un piccolo ombelico del mondo nel campo dell'inclusione e della promozione culturale contro ogni barriera. Oggi è un po' la celebrazione conclusiva con una festa, una vera e propria festa che facciamo in questo luogo prestigioso qui della nostra città, con tanti ospiti anche stasera provenienti da tutta Italia, che si esibiranno e che dimostreranno che quel palco ancora una volta queste differenze le annulla perché tutti abbiamo delle abilità. Anche Cinzia Angarano, presidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, esprime grande soddisfazione per questa lunga cavalcata. Sono tantissimi ospiti da tutta Italia, quindi l'emozione prima è stata quella di accoglierli e condividere con loro il nostro progetto. E poi oggi vedere tutta questa gente qui per loro vuol dire anche che il nostro piccolo sogno un po' si sta avverando. Sono 16 anni e tanti sacrifici, però sicuramente è un sacrificio fatto bene.